Sole, mare e qualche nuvoletta fastidiosa che però non dovrebbe pregiudicare le vacanze in Riviera. Il ponte del 2 giugno segna l'avvio ufficiale della stagione turistica e gli operatori non si nascondono. Sarà un'estate bollente anche sul piano delle presenze. Del resto il rapporto qualità-prezzo in Romagna è tra i migliori e gli italiani che pure non stanno attraversando un momento felicissimo difficilmente rinunciano a qualche giorno di riposo, preferendo l'ospitalità a buon mercato della Riviera. Quest'anno si prevede un forte aumento dell'incoming turistico per diversi motivi. Un po' sull'onda della stagione balneare dell'anno scorso che è stata molto positiva quindi già i turisti locali stanno già prenotando, prenotando gli stagionali, c'è molto entusiasmo, molta voglia di mare. In più perché c'è una ripresa dal punto di vista economico che fa prevedere che quest'anno ci siano più persone che abbiano la possibilità di venire in vacanza. Poi soprattutto qua in Riviera da noi dove il rapporto qualità-prezzo è sempre molto buono è facile che famiglie che magari negli anni scorsi hanno saltato il periodo di vacanza quest'anno ritornino in Romagna. C'è anche la congiuntura internazionale con le varie crisi che ci sono sparse nel mondo soprattutto nel Medio Oriente, nell'Africa del Nord che secondo noi giocheranno a nostro favore. Le prime nuvole di giugno hanno riacceso il tema caldo, delle previsioni del tempo capaci già in passato di alimentare cesi discussioni e anche quest'anno al centro di qualche polemica. Sempre di più e sempre più siti danno previsioni anche dettagliate negli orari, nei luoghi e spesso però si rivelano infondate o sbagliate o parzialmente corrette. Queste creano al turismo locale e agli operatori un danno economico spesso notevole perché quando si prevede per giorni tempo brutto e poi in realtà non scende una goccia d'acqua vuol dire che abbiamo allontanato potenziali clienti che avrebbero trascorso le vacanze qui da noi in riviera a stare a casa. Purtroppo sono previsioni e le previsioni hanno un margine di errore notevole soprattutto nella nostra fascia qui adriatica dove gli appennini arrivano fino al mare e quindi possono cambiare in maniera repentina le condizioni meteorologiche. Bisognerebbe stare molto più attenti soprattutto perché si creano danni economici infondati, immotivati.